Presidente Messina, oggi alla Spezia riuniti i principali player italiani e internazionali sulla logistica. Io le chiedo, da operatore del porto di Genova, qual è lo stato della logistica a Genova e Liguria? Da presidente di Assarmatori invece a che punto siamo in Italia se comparati con il resto d'Europa, ma anche con l'Ord Africa che sta facendo passi avanti notevoli? Il tema di oggi, innanzitutto devo dire alla mattinata, è molto soddisfacente perché a parte l'autorevolezza degli interlocutori ho apprezzato molto l'intervento della coordinatrice, ex primo ministro della Slovacchia, molto concreto e direi che ha centrato secondo me quello che è l'essenzialità dei problemi del nostro paese, in particolare lato tirreno, quindi Liguria, ma non solo, Toscana. Direi da sottolineare uno, il fatto del collegamento dei nodi tra i terminal e le connessioni ferroviarie. Il nodo di Genova, noi conosciamo benissimo come rappresenti un problema, ha dato dei dati molto interessanti sui passaggi dei camion parametrati tra Tuna del Monte Bianco e Ventimiglia, dove quindi evidenziate come le connessioni marittime, in particolare da armatore e da ass armatori che rappresentiamo la gran parte dei soggetti che svolgono le attività di short sea shipping e di autostrada del mare, sia importantissimo incentivare questa modalità. Perché comunque, non solo nei container, ma anche nel traffico ororo, i volumi stanno crescendo, anche se le previsioni sono state viste un po' arrivasse nel corso delle ultime settimane dai grandi uffici studi e analisti, però è ineludibile il fatto che nei prossimi anni ci sia una continua crescita e quindi si debba necessariamente adeguare il tema delle infrastrutture.